Intanto che noi ci spostavamo con noi. Nasce da una sua grande passione, ma anche dalle sue radici. Suo padre e suo nonno furono infatti minatori, il libro di Luigi Furia, le miniere di piombo e zinco della Bergamasca. Si tratta di un excursus storico fra le miniere della Valle del Riso, ma non solo, si parla anche di quelle di Collere, della Valle di Scalve e della Valtorta. Il volume è stato realizzato anche grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Gorno, al patrocino di provincia di Bergamo e Regione Lombardia, al sostegno della Cisle e di aziende private. Ha il grande pregio di fare una panoramica completa delle miniere bergamasche. Fa la storia non solo delle miniere di corno, ma fa la storia di tutte le miniere di piombo e zinco della Bergamasca, in pratica partendo da Valtorta fino a Collere. Anche perché in generale si parla spesso, ed è giusto che si parli di miniere di ferro, ma tanti non sanno che le miniere di zinco sono quelle più antiche e quelle che hanno dato più occupazione. Abbiamo un rapporto di 1 a 10, se nelle miniere di ferro lavorava una persona, le miniere di zinco ne lavoravano 10. Nella prima parte del volume viene raccontata la storia delle miniere, nella seconda parte viene descritto il lavoro dei minatori, dallo scavo all'avanzamento dei lavori, ma anche il lavoro dei ragazzi, delle donne e di tutte le figure professionali che ruotano attorno a questo settore. Ci sono anche numerose testimonianze. La parte più intrigante, se si può chiamare così, è quella delle interviste. Io ho riportato una quarantina circa, forse anche di più, perché poi alcuni sono anche diluite nel testo storico, eccetera, di interviste ai minatori. Ma non solo il minatore vero e proprio, ma anche chi lavorava all'interno del settore minerario. Faccio un esempio, dal geologo al perito minerario, all'impiegato che era lì a distribuire la paga, e gli operai, eccetera, per fare un quadro completo della vita che si viveva all'interno del settore estrattivo. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del libro è per sabato sera nella sala dell'oratorio di Gorno.